tu devi rimanere perché oltre a avere quest'idea fantastica per questi ragazzi hai pensato di invitarci qui io come conduttrice sono molto contenta che hai pensato a me per condurre questa serata ma soprattutto per i ragazzi ma questa questa serata è semplicemente per tutti voi e grazie noi siamo per voi e saremo a taranto prossimamente con un grande spettacolo insieme alla nostra gabriella lunghi e tanti altri artisti che sono anche qui stasera già di sarco abbiamo anche vabbè dopo non bisogna dire che non finisce qui amici vi vedranno in tutto il mondo va bene siete contenti bene insomma allora io ti lascio al tuo lavoro grazie Rossi ci sentiamo tra pochissimo grazie a tutti voi a più tardi bene allora iniziamo proprio nel diciamo iniziamo con questa festa spettacolo abbiamo una grandissima sorpresa per voi ragazzi voi che siete arrivati quanti chilometri sono di notasava a roma 500 neanche 600 600 chilometri allora è valsa la pena oltre a vedere ovviamente un grande personale papa questa mattina ma noi abbiamo portato qui un grande della musica leggera della canzone italiana guarda non ve lo dico nemmeno chi è facciamo partire la musica è un grandissimo applauso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti penso che ogni giorno sia come una pesca grazie a tutti 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 di tempesta, sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta, tutti vogliono tutto per voi accorgersi, che è niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre, vai. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, gli stinti di forte perché nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Eccoci qua ragazzi, venite pure qua avanti con me, eccoci qua. Bentrovati, belle facce solidente. Allora il tuo nome? Andrea, tu invece? Davide. Davide e Andrea. Allora noi siamo qua ovviamente per divertirci, dobbiamo fare insomma un balletto, semplice semplice. Tu sei bravo a ballare Davide? Infanto. Vabbè dai, però sono insomma, è facilissimo queste queste mosse. Tu Andrea invece sei bravo? Pochissimo. Allora guarda, voi seguite me con la musica, ovviamente alla collaborazione da parte vostra con le mani e vediamo poi insomma come se la cavano i ragazzi. Va bene? Ci state? Ok, vai maestro. Su le mani vai! Tutti su con le mani! Poi seguite me 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 con le dago il ruolo! Fi Dead了吧! Se nonhouette, noi sai che tutto ti è tutto per darma parete! SELLPO Il Ges diamond! E parla di Leo Ricciore! Tiательica! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione